È una Pesaro blindatissima quella che si prepara ad accogliere domenica sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'evento conclusivo del 42esimo Rossini Opera Festival. Si tratterà di una delle ultime uscite nella nostra regione del Capo dello Stato, dal momento che ha da poco iniziato il semestre bianco perché ha gli sgoccioli del suo settennato che terminerà il 31 gennaio 2022. L'appuntamento è in programma alle ore 20.30 nella centralissima Piazza del Popolo. Mattarella verrà in visita privata, arriverà pochi minuti prima dell'inizio del concerto, saluterà le autorità e i rappresentanti del ROF e ripartirà subito dopo. La scelta di non far visitare Pesaro a Mattarella è anche per non creare assembramenti e dunque per lo scarso tempo a disposizione non ci saranno momenti di contatto con il pubblico. Tra le numerose misure attivate, la macchina organizzativa prevede modifiche alla viabilità del centro storico attraverso rigorose misure di sicurezza che vanno dal transito alla vendita di bevande fino alla sosta degli autoveicoli sia in centro storico che nelle zone adiacenti. Il ROF 2021 si chiuderà con il Legala Rossini che celebra il 25esimo anniversario del debutto pesarese di Juan Diego Florez. Il concerto, al quale assisterà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà visibile anche sui canali social delle Rossini Opera Festival e a Pesaro sarà proiettato nell'arena curvone di Piazza Gidefava.